Il ruolo del consulente finanziario nella gestione degli asset patrimoniali delle famiglie diventerà sempre più importante. Se noi consideriamo che all'interno delle famiglie esistono i genitori che hanno delle esigenze di passaggio generazionale e i figli che invece hanno una necessità di una crescita del patrimonio personale, già ci rendiamo conto che il ruolo del consulente deve essere un ruolo con ampie competenze. Parlando dei genitori il passaggio generazionale sarà molto importante. Se si consideri che soltanto l'8% degli italiani oggi fa un testamento abbiamo oramai le famiglie coppie di fatto che allargano ancora di più il perimetro e che lasciano una grande incertezza sui grandi patrimoni e i grandi risparmi che queste persone poi dovranno devolvere o dare in eredità. L'assenza di testamenti crea molto spesso dei litigi. Quindi avere un consulente che è in grado di poter gestire questo passaggio è un momento molto importante. Si pensi che poi nei prossimi 10 anni il 65% delle ricchezze delle famiglie italiane assolutamente passerà da una generazione all'altra. Quindi nel mondo dei genitori abbiamo due generazioni a confronto che sono i veterani e i baby boomers. Dall'altra parte invece abbiamo i figli che sono le famose generazioni Y e i millennials che hanno stili di vita diverso, che hanno esigenze diverse, bisogni diverse e hanno delle modalità di approcciarsi alla vita completamente diverse rispetto ai loro genitori. In questo caso il consulente finanziario deve essere in grado di poter gestire contemporaneamente quattro generazioni diverse con quattro stili di vita diverse. E quindi le competenze e la capacità di relazionarsi, entrare in empatia, acquisire la fiducia da parte di queste persone diventa sempre molto più complicata e complessa. La MIFID II su questo evidenzia un aspetto importante che sono le competenze che i consulenti finanziari devono avere. E avere un'azienda che è in grado di supportare i propri consulenti finanziari in percorsi di formazione, di crescita professionale in questo ambito già allineati alla MIFID II è un elemento di fondamentale importanza. Noi puntiamo moltissimo su questo, soprattutto sulla formazione, perché siamo un'azienda che investirà nei prossimi sei mesi ben 15 giornate di formazione per ogni singolo consulente finanziario, da gennaio fino a quest'estate e poi proseguiremo anche nel corso dell'anno. E questa sarà una formazione che sarà segmentata per tipologia di esigenza del consulente finanziario, partendo dall'utilizzo delle piattaforme, dall'utilizzo della tecnologia dei nostri robot for advisor, fino ad arrivare alla gestione della relazione con il cliente, a come si entra in empatia con il cliente, a come si riesce a instaurare un dialogo di fiducia per avere la conoscenza profonda dello stesso e comprendere quali sono i reali bisogni per poi predisporre delle soluzioni di investimento e di consulenza che siano assolutamente idonee e allineate. Tutto questo noi come lo faremo? Lo faremo grazie a questo percorso di formazione, dando ai nostri consulenti finanziari e dandone visibilità ai nostri clienti, di un percorso che sarà assolutamente certificato da un ente terzo che garantirà l'assoluta assenza di conflitto di interessi e con un unico obiettivo che è quello di lavorare per la soddisfazione dei bisogni del cliente. Ce lo possiamo permettere anche perché siamo un'azienda che non ha prodotti di gruppo, non ha prodotti propri, non ha budget di prodotto e lavora esclusivamente su un'architettura completamente aperta e senza budget di prodotto.